Gentili telespettatori, benvenuti a questo spazio autogestito a cura del candidato sinnaco Sebastiano Dierna, un nome con una lunga e collaudata esperienza politica e di impegno sociale anche sul territorio, tre le liste a sostegno della candidatura di Sebastiano Dierna, ovviamente una campagna elettronale che potrebbe anche riservare colpi di scena in positivo, tanti movimenti civici che simpatizzano per la sua persona, oggetto dell'incontro di oggi sono le politiche sociali, un argomento sul quale non solo lei è ferrato ma nell'ambito del quale ha operato concretamente sul territorio prendendo contatto con quelle che sono le urgenze e quindi le domande dell'utenza. Sì, in effetti in questo momento ritengo le politiche sociali l'asse portante dei problemi che stiamo vivendo. Voglio ricordare che noi stiamo avendo una crisi socio-economica notevole per cui in questo momento tutti i comuni sono in difficoltà, tutti i comuni sono in predissesto cioè secondo me il governo centrale non ha contezza di quello che sta succedendo nei nostri territori perché nel momento in cui i trasferimenti a livello nazionale diminuiscono anno per anno è normale che ci costringe, anzi costringe ai nostri cittadini purtroppo attraversare momenti difficili. Per questo motivo io ritengo che le politiche sociali devono essere la parte essenziale della politica che noi ci accingiamo da qui a poco a fare per quanto riguarda la nostra comunità. Io parlo di questo perché io ritengo che un politico una volta avuto la fiducia dei cittadini deve rendicontare le attività che ha fatte per i suoi cittadini. Io ho cercato attraverso le conferenze stampe, ogni anno ho fatto una conferenza per dire questa fiducia che mi è stata data e ho realizzato questi progetti. Però mi accorgo che molte volte la comunicazione, poi specialmente su Sarno, certo io ho vissuto quattro anni in provincia, sono stato eletto per la seconda volta per cui gli ultimi anni li ho vissuti un po' più intensamente perché faccio il ruolo di assessore, questo comporta un impegno maggiore, girare tutti i comuni della provincia non è facile. Per cui è vero che sono stato un po' lontano dalla mia città, però la mia città, Sarno, io voglio bene molto a Sarno, sta sempre nel mio cuore. Ma certo, anche perché la vive quotidianamente al di là di tutto. Sì, conosco le problematiche, ho cercato pure attraverso come assessore di concentrare gli interventi più importanti nell'agro e nella mia città, perché la mia origine, i miei valori stanno qua, le mie radici stanno qua, per cui è normale, uno sente di più il peso politico e delle problematiche delle nostre città dell'agro, ma soprattutto di Sarno. Per cui ho cercato attraverso il mio programma a livello provinciale, diciamo, di realizzarlo. E direi, questo detto da me potrebbe essere vero, io ho cercato pure attraverso un opuscolo di dire tutto quello che ho reso conto della mia attività politica, per far capire ai cittadini che quella fiducia che mi è stata donata... È stata ben riposta. Sì, ben riposta attraverso un programma di tutti i progetti realizzati. Per cui non è la mia candidatura a sindaco viene a caso. Io vorrei che un po' che tutti i politici, perché come noto a Sarno, cioè i politici nuovi sono pochi, bene o male veniamo tutti quando è un'esperienza ventennale, tutti i candidati. Per cui è giusto dire quello che è stato fatto per il passato ed è giusto dire quello che si vuole fare per la nostra città, in un momento difficile, che poi non si capisce il motivo, perché oggi amministrare una città uno deve essere consapevole di cosa può trovare, deve essere consapevole pure come vuole affrontare questi problemi. Io prima di accettare la candidatura ho cercato di creare le premesse per pensare pure al domani come affrontare tutte le problematiche. Non a caso la lista del Presidente della Regione sta a mio sostegno, il Circolo Durati che è una lista che è vicino al Presidente Caldoro. Questa cosa non è che è avvenuta per caso, perché io mi sono regato in Regione, perché chi fa politica sa bene dove sono concentrate le risorse, dove si legifera è la Regione Campania. Per cui io ho avuto sempre una sinergia con la Regione Campania. Se ho avuto dei risultati proprio per il rapporto che ho creato tra Comune di Sarno, Provincia di Salerno e Regione Campania. La cosiddetta filiera istituzionale. Perché se non ci sono queste premesse è inutile che uno va a fare il sindaco senza poi avere un riscontro sulle problematiche da portare nella sua città, dei risultati concreti. Per cui nel momento in cui il Presidente della Regione mi sostiene in questa campagna elettorale io sono convinto che potrò risolvere diverse problematiche che accomunano poi il nostro Comune di Sarno. Però è giusto dire pure per il passato. Io ho realizzato dei progetti importanti. Io quando sono stato assessore in effetti ho notato che diverse problematiche per il passato non erano risolte. Mi ricordo prima della mia, perché io sono stato pure 5 anni consigliere provinciale di opposizione con la Giunta Villani. Prima avevamo una gestione un po' più clienterale dell'attività pubblica. Mi ricordo da assessore che arrivavano tutte le associazioni per i contributi. Però non avendo risorse certamente non si è potuto, pure perché da parte mia pure se avevo risorse non avrei provveduto a dare le risorse alle associazioni. Perché ho notato che molte associazioni nascono solo per raggiungere un'altra fine, però il fine delle associazioni, il volontario per me è un'altra cosa. Per cui noi abbiamo delle realtà forti come associazioni sul nostro territorio. Per cui mi sono dedicato ad avere rapporti con quelle associazioni più sane, che effettivamente erano persone che sono fornite di umiltà, persone che effettivamente lo fanno con passione il volontariato. Per cui mi sono affidato a loro e insieme a loro abbiamo realizzato dei progetti importanti. Voglio parlare dell'osservatore dei minori, che non era facile mettere insieme il Tribunale dei minori, il Tribunale della Procura della Repubblica, Forze dell'Ordine, ASL, Università. Però dopo diversi incontri, 20-30 incontri, siamo riusciti a realizzare, a tutelare, a monitorare per quanto riguarda gli abusi sui minori e altre problematiche che riguardano i nostri ragazzi. Avere l'osservatore per me era una cosa indispensabile per tutelare queste persone. Ma non è stato solo questo. Ho realizzato lo sportello per gli immigrati, la consulta per gli immigrati.